Ciao a tutti da Il Salutatore, grandissimissima sorpresa, ti posso dare un bacio a una lingua? Qua, 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 un salutatore è una roba, ti viene voglia di salutarmi allo dentro, chiedo scusa, ecco ritorniamo a noi, grandissimissimo Masmo Ceccherini, con Niki Giussino, detto linguina, 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 bacio, un bacio, pure lui, pure lui, qui si, i ragazzi si agito, allora, Siamo emozionati perché siamo qui a girare il film nel Salento per Meridione Mon Amour di Gianluca, guardate signori e signori, linguina, disfumbatori, linguina, uno dei protagonisti di questo stupendo film, Meridione Mon Amour, di Gianluca, menta, menta, ecco, te ci vorrebbe una mentina, ecco, te devi se la fuori la linguina e basta, non devi dire altro, se no perdi la ferma, Scusatore, prego, scusi se mi sono permesso, no, 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 è un saluto, salutiamo un tanto e vi invidiamo tutti a vedere il film, Meridione Mon Amour di Gianluca, menta, secondo titolo, malati di menta, malati di menta, e andrà in tutti i migliori bar di Cicerale, non è uno, io adesso, purtroppo, ma credo anche voi, devo tornare in clinica, credo anche voi, ci vediamo alla prossima ora d'aria, Meridione Mon Amour, Gianluca, menta, ciao!